Qualcosa non va? A me, ma che giorno era la festa? Il 31! Oh, porco! E adesso che cosa facciamo? Mica possiamo metterci qui e lavorare in queste condizioni con tutti che ci guardano male? Ma sì, dai, figurati cosa sarà mai! Lavoriamo comunque! Non fai finta di niente! Non è! Che bell'outfit! Grazie! Che vergogna! Dai, che sarà mai! Capitano! Dacci il foro, capitano! Ok, io me ne vado! No, no, che fai? E andiamo a lavorare, dai! Che farà mai? E tu chi saresti? Pirata Pop Pop? Hai mai visto lo spot del Pirata Pop Pop? Quello dove prendi le spade e gliele infili nel... A me? Ricordami perché ci siamo vestiti così? Come perché? Perché Halloween e su BPM Power ci sono delle offerte da urlo! E allora non potevamo solo urlarle? BPM Power, abbiamo sconti... Da paura!